In occasione della giornata mondiale dell'ambiente si è svolto a Timisoara, Romania, un convegno su progetti studenteschi, tra i quali quello dell'Iceo Azzur, denominato Tinneri the Seed, i giovani decidono, ispirato all'iniziativa Ragazzi in Aula, promossa dal Consiglio regionale del Piemonte. Prosegue così la collaborazione tra enti, che ha visto la partecipazione lo scorso anno di una delegazione di insegnanti, studenti e del comune di Timisoara alla seduta conclusiva della quindicesima edizione di Ragazzi in Aula.